Non riusciranno a scappare, non fatevi sorprendere, non arretrate, non è una gara, la vuoi caricare, ti vengo d'occhio. Alveare restauratore traditori rilevato, alveare restauratore nemico rilevato, torretta inceneritrice traditori rilevata. Torretta inceneritrice rilevata. Alvearini di Vespe traditori rilevato. Alveare nido di petto di mico rilevato Agente traditore eliminato Accesso deposito rifornimenti sbloccato Grazie a tutti